...olivea, diciamolo, perché ci hanno dato la segnalazione. Allora, allora, Palesia non c'entra niente, sono solo due milanisti. Comunque, dico la partita, per chi è stata a vedere, la vede in una maniera abbastanza neutrale, a me non è dispiaciuta, sono un po' diversa da quello che pensano i senesi e i fiorentini. La partita è l'1-1 più il risultato. Per Sergio Carpanesi, invece, che cosa possiamo dire di questa partita? A parte la valutazione che ha impostato lui. Perché la fiorentina è andata con altri obiettivi. Concordo con Giuliano che dal punto di vista di attenzione la partita ha dato, perché sono state molte occasioni da una parte, soprattutto dalla parte destina e dall'altra.